Salve a tutti, in questa parte del tutorial di Lightroom Classic vediamo la libreria, quindi non parliamo più di importazione ma parliamo di foto già importate nel nostro catalogo. Cosa possiamo fare, come possiamo filtrarle, quindi come fare un'esposizione rapida, una chiarezza rapida, quindi come gestire lo sviluppo rapido, che non è la sezione sviluppo, quella la vedremo in un'altra parte. Allora abbiamo 14 fotografie, come ho detto nella parte precedente Lightroom ci consente di filtrarle con tantissimi metodi. Prima di passare a questi vediamo cosa possiamo fare con queste foto, allora possiamo eliminarle dal catalogo, quindi elimino la 14 ad esempio, tasto destro, rimuovi foto e attenzione, qui Lightroom ci sta chiedendo come dobbiamo rimuoverla, se vogliamo rimuoverla in modo permanente dal nostro disco fisso o se vogliamo solo rimuoverla dal catalogo, quindi attenzione, se clicchiamo rimuovi questa fotografia rimarrà sul mio computer, se eliminiamo da disco, come dice qua, il comando elimina sposta il file nel cestino di esplora risorse e lo rimuove dal Lightroom, verranno rimossi anche file sincronizzati se presenti dagli altri client Lightroom, quindi fate attenzione, nel mio caso voglio solo rimuoverla dal catalogo, rimuovi, altrimenti tasto destro, rimuovi foto, annulla per annullare l'operazione. Quindi possiamo eliminare le foto con due metodologie, possiamo usare anche il tasto cancio, guardate, cancio del della tastiera, ecco qua, annulla, questo per quanto riguarda la cancellazione delle fotografie già inserite nel catalogo. Poi possiamo ordinare la nostra libreria con questi sistemi, quindi questo è semplicemente la visione della singola fotografia, questa è la visuale della griglia, questa invece è vista confronto, quindi noi col CTRL magari clicchiamo prima qui e poi qua, quindi la 5 e la 12, clicchiamo qua XY, vista confronto e le abbiamo accanto. Quindi noi possiamo anche, guardate, fare lo zoom, quindi spostarci e anche la foto accanto si sposterà, quindi questa cosa ha più senso quando avete scattato due foto identiche e volete selezionare o scartare una delle due, quindi le esaminate entrambe, osservate i dettagli e scegliete cosa fare. Qua in alto, su questo pulsantino, possiamo cambiare il livello di zoom, vedete, in questo modo, più vicino o più lontano. Poi qua c'è adatta o riempi, uno, uno, e questo è il navigatore, vedete? Qua possiamo spostarci sulla fotografia tenendo premuto il pulsante sinistra del mouse. Poi possiamo anche usare questo tipo di zoom e poi abbiamo questa che sarebbe la vista d'insieme. Quindi se andiamo qua nella griglia possiamo selezionare anche questa e questa e questa, andiamo qua e queste sono le foto della vista d'insieme. Possiamo cliccare X, questa va via dalla vista d'insieme, si ingrandiscono le altre. Questa invece serve per tracciare le foto che hanno gli stessi visi, quindi vedete come dice il testo, questa vista mostra i volti delle persone nelle foto. Se lo desiderate Lightroom può indicizzare tutti i volti presenti nell'intero catalogo in background per rendere il tutto più veloce. Quindi si tratta anche di indicizzare i volti. Trova volti solo se richiesto, inizia a trovare volti in tutto il catalogo, qua non ho volti, quindi lascio stare questa sezione. Torno qua, ok. Allora adesso cominciamo a vedere i filtri. Come avete visto nella parte precedente abbiamo dato dei tag a queste fotografie. E sono elencati qua. Bosco, 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 bosco. E qua abbiamo alberi e autunno. Ok. Adesso se io vado qua su e clicco su testo, e qua nella lente scrivo bosco, vedrò solamente le foto con il tag bosco. Se io cerco autunno, vedrò solamente le foto con il tag autunno. Quindi questo è un metodo di ricerca. Se voi preferite usare questo, allora mettetevi a taggare, a dare i tag a tutte le foto, e poi utilizzerete questo sistema per la ricerca rapida. Qua possiamo anche cambiare la tipologia di ricerca, quindi che contenga tutto, oppure che contenga parole, che non contenga tali parole. E qua, qualsiasi campo ricercabile, nome file, nome copia, titoli da scalia, parole chiave, eccetera, eccetera. Infatti qua il testo non si riferisce solamente alle parole chiave, ma in generale al testo della fotografia. Torniamo qua in attributo. Qua ci sono altri filtri, quindi per colori, vediamo come possiamo fare. Ovviamente adesso non abbiamo etichettato nulla per colori, ma io qua le foto di bosco, se io non volessi utilizzare i tag, ma volessi utilizzare i colori, ho fatto shift da qua a qua, quindi ho selezionato le prime cinque. Posso fare tasto destro, imposta etichetta colore, verde. Visto che si parla di bosco, facciamole verde. E queste due autunnali le metto giallo, quindi tasto destro, imposta etichetta colore, giallo. Quindi io ho colorato queste foto di verde, queste di giallo. Se io clicco qua, giallo, avrò solamente le foto in giallo, e qua solamente quelle in verde. Quindi idem per tutti gli altri colori. Poi posso filtrare su più cose, quindi questo più altro. Che cosa? Magari la valutazione, quindi diamo un voto alle foto. Guardate qua. Questi puntini sono le stelline, che possiamo dare. Noi possiamo valutare le fotografie, ad esempio questa mi è venuta così e così, tre stelle. Questa tre stelle, questa tre stelle, questa mi piace tanto, cinque stelle. Ok. Quindi adesso posso filtrare anche per valutazione. Anche qua possiamo farlo, eh. Quindi voglio quelle da cinque stelle, ecco qua, cinque stelle. Se io le avessi detto, voglio quelle da cinque stelle, che siano con etichetta verde, non mi mostra più niente. Che poi, attenzione, possiamo fare le stesse cose spesso in punti diversi. Ad esempio, io gli ho dato la valutazione qua, ma guardate, anche qua è uguale. Quindi la modifica viene presa qua in tempo reale, idem per i colori, vedete? Quindi io gli ho impostato due filtri adesso, cinque stelle più colore verde. Tolgo il colore verde, ok, ha trovato questa nel colore giallo, cinque stelle. E poi gli posso dire, attenzione, la valutazione deve essere cinque stelle, ma impostata su maggiore o pari a. quindi in questo caso, maggiore o pari a cinque stelle, c'è da cinque stelle in su, solo cinque. Se io gli avessi messo maggiore o pari a tre stelle, vedete che lui mi mostra sia tre stelle, sia cinque stelle, perché c'è pari a o superiore. Se invece metto valutazione pari a, lui mi mostra solo tre stelle. Quindi possiamo cambiare il sistema di filtraggio per stelle, oppure minore o pari a. Ecco qua. Quindi anche tutte quelle che vanno sotto le tre stelle, che sono anche quelle non valutate. La rimetto così. Posso cliccare sulla stella per eliminare il filtro. Oppure qua posso, vedete qui, disattivare il filtro in toto. Quindi tutti i filtri disattivati in un colpo solo o attivati in un colpo solo. Poi possiamo anche utilizzare qua la raccolta rapida. Vedete qua in alto a destra c'è questo tondino. Se noi lo clicchiamo, stiamo aggiungendo queste due foto alla raccolta rapida. La raccolta rapida si filtra qua. Vedete? Raccolta rapida, clicco qui. Ci sono solo queste due foto. Abbiamo visto anche nell'altra parte che qua nel catalogo posso filtrare per tutte le foto. Raccolta rapida. Importazione precedente, quindi le ultime importate. Qua per cartella, quindi dove stanno queste foto. Quindi voglio solo quelle che stanno nella cartella boschi o solo quelle che stanno nella cartella cielo. tutte le foto. Poi qua ci sono altre cose, ad esempio i metadati. Quindi posso filtrare per 2017, quindi le foto scattate nel 2017, scattate nel 2018, oppure qua gli dico lascia stare la data, ma filtrami solamente quelle scattate con questa fotocamera. Ecco qua, che sono tutte. Oppure, tutte quelle con l'etichetta. Qua abbiamo di nuovo il filtro per etichetta. Ora, qua sulla destra abbiamo le parole chiave e l'abbiamo visto, però possiamo anche espandere la sezione metadati, quindi ha senso anche selezionare una foto e vedere i suoi metadati, quindi l'ora di acquisizione, la data di acquisizione, qua vediamo anche l'etichetta e la valutazione, se l'abbiamo data, e tutte le varie impostazioni, quindi la lunghezza focale, sensibilità ISO, flash, se è stato utilizzato o meno, e il nostro modello di fotocamera. Qua su abbiamo anche l'istogramma, che ci mostra i valori. Qui abbiamo anche il tempo di esposizione, ma anche qua lo abbiamo. Altre cose, qua abbiamo lo zoom, vedete, della griglia. Qua abbiamo lo sviluppo rapido, e adesso per vederlo, seleziono solo una di queste foto, quindi faccio doppio clic su una foto, e l'apro. Allora, ecco qua. Qua possiamo controllare la tonalità, in modo automatico, quindi diciamo al Lightroom di far qualcosa, oppure possiamo aumentare di un terzo di stop, l'esposizione, qui torna indietro di un terzo, oppure qua di uno stop l'esposizione, e qua di uno stop indietro. La chiarezza idem, guardate, e la vividezza lo stesso. Ora, esagero la foto, e vi faccio vedere che, non è come Photoshop, questo programma, mantiene comunque, l'originalità della foto, quindi potete tornare indietro, facendo ripristina tutto. Vedete? Nessun problema, quindi, non c'è bisogno di fare modifica a nulla, che ovviamente, c'è per tutti i programmi, però, in questo caso, Lightroom ci consente, di annullare le modifiche. Qua c'è il bilanciamento del bianco, automatico, o personale. Però, sono cose che vedremo comunque, in modo più approfondito, nella sezione sviluppo, quella comunque più adatta, a fare i ritocchi nella fotografia. Qua possiamo ruotare l'immagine, in modo veloce, senza orario, senza anti-orario. Altra cosa, andiamo qua nella griglia, possiamo duplicare, una foto del catalogo, con il tasto destro, crea copia virtuale. Ecco qua. Questa copia virtuale, sta all'interno del catalogo, non è una, un duplicato, nella cartella. Infatti, se io faccio tasto destro, rimuovi foto, non mi dice, se voglio eliminarlo dal disco, o rimuoverlo, e basta dal catalogo, c'è solo rimuovi. Ovviamente, se io faccio delle modifiche, alla copia originale, le modifiche, non vengono attuate, alla copia virtuale. Quindi, può essere molto utile, se voi volete, ottenere vari risultati, volete più, copia della stessa foto, quindi questo potete ottenerlo, con la copia virtuale. In questo caso, faccio rimuovi, e torno qua, per, far tornare tutto, com'era prima. Quindi, abbiamo anche visto, le cose principali, della libreria, nella prossima parte del tutorial, vedremo la sezione sviluppo, quindi il cuore del programma, Lightroom Classics, dove possiamo fare, tutta una serie, di, ritocchi, sulle nostre fotografie. Un saluto a tutti.